ciao ciao a tutti l'ammiraglio picard insieme a tutto il suo staff al suo equipaggio grazie al mitico giordi laforgia il nuovo portato in servizio l'enterpress di a cui sono particolarmente legato la mia è perfettamente funzionante anche la sala motori perfettamente funzionante così come il mio teletrasporto perfettamente funzionante se tutto va andiamo anche noi in plancia mi dispiace per le uniformi non conformi a quelle odierne cioè a quelle usate nella serie sono ancora quelle originali di the next generation ok ho messo in moto se così può dire andiamo di un allarme rosso proviamo un check tutto funziona proviamo a fare grazie aprire le comunicazioni perfetto ma vediamo cosa ci riserverà il capitano picard grazie per questa piccola chicca che ho voluto condividere con voi grazie per un eventuale like ciao